Buongiorno, benvenuto a questa è la segna stampa di oggi 3 giugno, finalmente a Milano, insomma sono ritornato nella città dove vivo. Allora, che cosa è successo sui giornali? Beh, è successo quello che succede ogni volta che c'è una manifestazione di piazza, anche se controllata, che non è fatto dalla sinistra, dai black bloc, dal centro-sinistra, da quelli che non vogliono il bavaglio, dai figli dei fiori, dai nemici di Trump. Quando il centro-destra va in piazza fa schifo, è un attentato alla democrazia e poi c'è questa immagine di 6-6 persone col presidente Mattarella, tutti con la mascherina e poi invece ci sono quei cafoni maleducati della destra che vanno in piazza. Falso, perché la destra, il centro-destra, già annunciato ieri, d'altro ieri da Repubblica, le piazze di destra, oggi è seguito perfettamente dal foglio in cui io vi leggo soltanto le prime righe dell'ottimo Francesco Merlo, abbondare di tatuaggi e bicipiti, abbondare di tatuaggi e bicipiti gonfiati, bicipiti gonfiati, volti da strada e da curva, ieri a piazza del popolo tanti balordi e si riferiva sia a quelli di Pappalardo sia a quella di Salvini. Io chiedo... Toc, toc! Oh! Merlo! Anzi, Merlo non c'era. Ma nel 94-95, quando c'era il foglio, io mi ricordo come consideravamo i berlusconiani, quelli che andavano in piazza e come consideravamo il popolo del primo maggio e quelli contro Berlusconi, ma cosa è successo? Claudio, cosa è successo? Si può definire quelli che sono scesi con Tajani, con Tajani, Tajani, semmai uno lo critica che di bicipiti ne ha pochi, non troppi, io penso che Tajani non abbia neanche un tatuaggio e penso che neanche Salvini abbia un tatuaggio, invece voi lo raccontate, Financo, il foglio lo racconta in perfetta conseguenza temporale e logica con le piazze occupate dalla destra. Vi ripeto, abbondare di tatuaggi e bicipiti, insomma, Salvini come si chiama quell'altro là, l'arancione, come quel pazzo di Pappalardo, quello che mette in relazione i 5G con il Covid. Ci sarà una differenza tra gli uomini e il popolo di Pappalardo e quello di Salvini, Meloni e Berlusconi? No, non c'è differenza, sono la stessa cosa. Complimenti, diciamo, all'analisi sofisticata che anche il foglio lo possiamo rimettere, peraltro già lo capivamo, nella grande linea di Repubblica, ma il Corriere della Sera ci spiega con Franco la manifestazione ha dimostrato le difficoltà crescenti dell'opposizione e che l'alternativa al governo Conte non è credibile, è come se fosse credibile il governo Conte, cioè è diventato credibile per Franco, ma questo già lo sapevamo, il governo Conte, il governo del Movimento 5 Stelle, il governo di Di Maio, il governo di Bonafede, il governo dell'Azzolina, il governo di vecchio Toninelli, questo grande governo è credibile e perché non è credibile l'opposizione? Perché ieri scendono in piazza e c'è un assembramento. Loro hanno detto di tutto, hanno fatto di tutto per non far scendere la gente in piazza, ma l'assembramento, qualche mascherina di troppo. Poi se lo dice, ovviamente, come si chiama, Burioni, il loro santo, sacro, come oggi dice per l'altro là, com'è che dice Dalbecchi, quel mitico Dalbecchi, oggi dice che quando parla Zangrillo sembra il Vate, a me non sembra per niente il Vate, a me sembrano Burioni, sembrano la Capua, sembreranno questi i Vati, non certo come si chiama Zangrillo che mi sembra veramente una persona di una tranquillità, dice cose che non piacciono a Dalbecchi, ce ne faremo una ragione, però il punto fondamentale è che i giornali di centrodestra provano a difendere questa piazza e tutto il resto, dal Foglio, a Repubblica, al Corriere della Sera, gli fa schifo, un tempo gli faceva schifo perché ci sono i fascisti, poi gli faceva schifo perché ci sono i bicipi di Merlo, poi i tatuaggi di Merlo e adesso perché non ci sono le mascherine e poi non ci sono... ragazzi siamo completamente impazziti, teniamoli, bravi! Ma d'altronde che cosa vi aspettate dal giornale che scrisse con Giuliano Ferrara che questa era la migliore classe dirigente che potevamo immaginare, quella di Conte, Bonafede e questi qua? Come potevamo immaginare qualche cosa di diverso? Beh, insomma, Ferrara come Travaglio che oggi ci spiega che la grande riforma del CSM è quella che ha in mente, come si chiama, Bonafede, quello che ha scelto e ha sbagliato il suo capo di gabinetto, il suo capo del DAP, il secondo capo del DAP, il capo degli affari degli ispettori, che ne ha sbagliati tutti, non ha accettato il suo mito al capo del DAP, però è uno che non sbaglia mai un colpo e anche la sua riforma del CSM secondo, come si chiama, Travaglio sarebbe favolosa, mentre quella che non vogliono PD e gli altri è schifosa e addirittura dice che bisognerebbe abolire quella parte della Costituzione che un tempo era la Costituzione più bella del mondo in cui vede i politici all'interno del CSM, per questo la Costituzione per un motivo molto semplice, che l'indipendenza dei magistrati va bene, ma abbiamo ben visto come se la gestiscono questa indipendenza dei magistrati con le trame dell'uomo nero, Palamara, quel fenomeno là che l'unica cosa che pensava non era tanto l'amministrazione della giustizia, ma come piazzare i suoi amici. Nel frattempo Sallusti e Belpietro cercano di fare una piccola difesa di queste manifestazioni, piccola nei modi loro, tutti possono manifestare e dissentire e fare i black block, scrive Belpietro, ma se lo fanno quelli di centrodestra, figuratevi un po' voi, prendersela con le piazze senza mescherina e come prendersela con il termometro e non con la febbre e poi aggiunge Sallusti un'altra considerazione molto semplice, la distanza vera che si dovrebbe prendere da Conte e non da queste piazze. Oggi è la giornata di Sala che è presente su tutti i giornali, su un'intervista al giornale del Corriere della Sera di Cazzullo e lì finalmente capisco per quale motivo non ho mai votato Sala e mai lo voterò, perché lo dico con rispetto, non pensando alle cagate che fa le cose ideologiche qua delle corsie preferenziali a Milano che oggi andrò a vedere nella loro follia, follia, ma perché lui riesce a dire che ancora gli piace quel paradosso assurdo, ridicolo per ogni liberale ed è veramente un nemico Sala per il liberale, un nemico a faccia aperta, voglio dire un avversario, nulla di male, anzi una persona garbata quando dice più ricchezza si crea più si alimenta la povertà. Ecco, uno che la pensa così è dall'altra parte, più ricchezza si crea più si alimenta la povertà. Esiste ancora gente che fa così, ovviamente gente ricca che dice queste cose, perché Sala fa parte della classe dirigente di questo paese e non è mai stato nella classe non dirigente di questo paese, ci spiega con Aldo Cazzullo che più ricchezza si crea più si alimenta la povertà, tant'è che chiede un nuovo socialismo e poi rivendica, sono stato io il primo a dialogare con Movimento 5 Stelle e parlo spesso con Beppe Grillo e Adelide Intelligenti. Allora Sala, caro Sala, ma tanto i milanesi lo rivoteranno perché ai milanesi, i milanesi è quella roba là, Crespi, Sala, questi sono i milanesi ed è il disastro, secondo me, della classe dirigente lombarda e quelli che riescono a esprimere questi qua è che si vergognano dei Brianzoli, dei Varesotti, dei Bresciani, dei Bergamaschi. I milanesi sono Sala, quelli che dicono che più ricchezza si crea e più povertà si alimenta, con la casa ovviamente e giustamente, secondo me, all'estero o a Semmorizia. Io lo ringrazio di questo perché penso che invece più ricchezza si crea e più povertà diminuisce, ma questa è una cosa che forse pratica Sala, ma non riesce a dire Adaldo Cazzullo. Enrico Letta recensisce il libro di Sala, che sarà sicuramente un grande successo sui giornali, non so nelle librerie, ma lo recensisce e quasi a farmi pensare che dietro a queste operazioni di Sala ci sia quella che io vorrei definire una nuova sinistra, come provarono a fare con Gori a Bergamo, poi provarono a fare ora con Sala a Milano, ha capito perfettamente che la sinistra lo sbando, questo sì, Sala lo ha capito perché è un uomo molto intelligente e determinato, e secondo me un'operazione in corso, Letta che recensisce Sala, Sala che si fa il pezzo dell'intervista sul Corriere della Sera in cui dice che serve un nuovo socialismo, insomma cos'è se non una candidatura, essere il nuovo punto di riferimento di quella galassia che va dal Movimento 5 Stelle alla sinistra-silistra. Dio ce ne scampi. La Cina ha tasciuto sul virus, almeno per un mese, adesso lo dicono anche quelli dell'OMS, complimenti, ci siete arrivati dopo sei mesi, ma ormai le cose sono tardi, i commenti su tutti quanti i giornali, mentre riguardo alle riaperture, il 3 giugno, ferma, festa della liberazione vera, è quello che dice il quotidiano nazionale, perché in realtà in tutto il mondo, in tutta Italia, ci sono le foto della Germania, le foto dei posti italiani, c'era un assembramento ovunque, all'ansia di libertà. L'ansia di libertà dei cittadini va bene, però quando tu togli le mascherine in Germania, quando tu togli le mascherine o sei relativamente vicino nei bar, nei posti italiani, vabbè, insomma lo capiamo che è l'ansia di libertà, peraltro non del tutto capito dai nostri fantastici uomini del comitato tecnico-scientifico con, come si chiama, i contagi che salvano, ma se lo fa una manifestazione di centrodestra a Roma, che schifo, i bicipiti, i tatuaggi, c'è gente che manifestava con i tatuaggi, che schifo i tatuaggi, io non ci voglio pensare, ma pensate un po' voi, c'è gente con i tatuaggi, nel frattempo Trump è incasinato in America più del solito e dice manderò anche l'esercito e Davide Ronzoni sul quotidiano nazionale ci dice attenzione, perché quello che sta venendo in America, ce ha contato anche Federico Rampini, beh, insomma è un impasto sì di questioni razziali, ma anche di disagio, 40 milioni di disoccupati, ci sono micro criminalità, piccoli delinquenti, disagio, rabbia e quello che dice oggi il quotidiano nazionale, il fondo quotidiano nazionale, quello che io condivido più di tutti, dice attenzione, perché l'ira è lì che serpeggia e quindi io sarei poco preoccupato da quei quattro folcloristici, diciamo, incazzosi dei gilet gialli, gilet arancioni italiani e ancor di meno delle piazze del centro-destra che sembrano sobrie, però se questi continuano così a negare, come dice Sallusti, a distanziare Conte dalla realtà, devo dire che quello che dice oggi il quotidiano nazionale, cioè che l'ira che serpeggia e noi facciamo finta di nulla, è incredibile, anche perché oggi la verità ci racconta una notizia straordinaria ed è un'ira che io poi capisco, una signora che chiede il bonus babysitter e l'Inps le risponde e dice lo faccia chiedere a sua figlia che ha 14 mesi. Allora, io se fossi quella madre non ce l'avrei contro il sistema, io andrei a prendere a calci nel culo il funzionario e anche il dipendente che si prende il 100% dello stipendio dell'Inps che mi scrive così, perché questa è una questione ed è un errore umano, sono degli stronzi, scusatemi il termine, perché una signora che si riduce a chiedere il bonus babysitter e gli rispondono all'Inps dal loro smart working, dal loro sindacalismo, dalle loro 30 ore di lavoro settimanale, dal loro stipendio fisso, dalla loro illicenziabilità e dai loro capi che dicono lo sforzo straordinario dei dipendenti dell'Inps. Quale sforzo? Una che ha scritto una cosa di questo tipo all'Inps, il direttore dell'Inps, che sarebbe già andato a licenziare a cacciare a calci nel sedere lo stesso Tridico, la prende, le prende per l'orecchio e dice tu hai scritto questo a una signora con un figlio di 14 mesi, tu sei licenziata per giusta causa, tu sei licenziato per giusta causa, tu, il tuo controllore e il tuo dirigente, ma non pagherà nessuno. Ovviamente noi ci scandalizziamo per quello che ha scritto, io invece mi scandalizzo sul fatto che quella persona che ha commesso quell'errore deve essere cacciata a calci nel sedere, come avrebbero cacciato a calci nel sedere una persona che scrive una cosa di questo tipo in tutto il mondo, ma l'Italia è fatta così, per cui il pubblico è illicenziabile, non c'è giusta causa, ma tanto voglio dire, prendono i soldi nostri andranno pure a manifestare probabilmente a dire bene questo governo e che orrore questi italiani con le mascherine. Nel frattempo direi che di notizie di giornata, un'altra notizia molto interessante è la vicenda di Zuckerberg, vedete Zuckerberg a differenza di Twitter non mette nessuna nota sulla seguente affermazione di Trump che passa per i social network, se saccheggiate noi spariamo. A parte il fatto che se uno entra a casa mia in America e viene sparato, non è true passing, vuol dire esattamente questo negli Stati Uniti, cioè negli Stati Uniti la violazione della proprietà privata è una cosa sacrosanta e quindi se tu entri nel mio spazio ho diritto a spararti, cultura che vi piaccia o non vi piaccia, e Trump è figlio di quella cultura e quello che dice non mi sembra incredibile vedendo quello che sta succedendo nelle piazze americane con dei delinquenti che entrano nei negozi, colpa o non colpa di qualcuno, però il fatto che entrino permette qualcuno una reazione e quindi lui dice se saccheggiate noi spariamo, cosa grave se volete, ma è perfettamente nella cultura americana. Twitter si è indignato e ha detto non condividiamo. Facebook ha detto io non condivido minimamente, ha fatto uscire delle mail interne Zuckerberg, io non condivido, sono orrendo, mi fa schifo perché quelli sono i liberal di quella costa, sono uguali a quelli di New Yorkesi, però io penso che la nostra piattaforma non debba prendere posizione anche se non condivide, certo non si mette a censurare, sacrosanta posizione di quello che io mi aspetto da Facebook, quindi complimenti, applausone a Zuckerberg, non lo condivido ma lo pubblico perché non è il mio mestiere mettermi a censurare cose di questo tipo, ci mancherebbe altro, io dico, se censurasse il Presidente della Repubblica Americana che dicesse una cosa di questo tipo, 600 dipendenti di Zuckerberg in sciopero, ma ben gli sta perché questi liberi all'americani sono straordinari e quindi si becca i suoi dipendenti che sono più a sinistra della sua sinistrismo da maglietta, posto che forse solo finto perché il suo sinistrismo finisce nel suo portafoglio, però insomma questa roba di Zuckerberg è affascinante, cioè scavalcato dai suoi dipendenti in sciopero digitale, immaginate un po' voi questi di Zuckerberg che quando vedono le mie zuppe quanto siano contenti di poterle tagliare o non monetizzare oppure su YouTube o su Google, questa è la dittatura che vogliamo, diciamo dittatura del pensiero liberal, io spero proprio di non averla e sono convinto che Zuckerberg in questo abbia difeso la libertà, non tanto Trump. Ultima cosa, un saluto, tra poco vi farò vedere l'ultima intervista che gli feci a Virus a un grandissimo del giornalismo italiano, è morto Gervaso, i giornali ne parlano, ma ciò c'è un pochino il Corriere della Sera, vedete essere fuori dal coro oggi è relativamente semplice perché sono molte le persone anche politicamente che sono fuori dal coro, quando lo erano Gervaso e Montanelli era molto più difficile, quindi chapeau a un grande maestro del giornalismo, un grandissimo scrittore, una persona che ho conosciuto di una grandissima simpatia e umanità e soprattutto un grandissimo signore che ci mancherà a tutti quanti. Un addio a Gervaso che farò più tardi con il sorriso col quale io sempre ricordo le interviste e gli incontri che ho avuto con lui e con la sua famiglia a cui sono veramente vicino in questo momento. Vi do un abbraccio e ci vediamo più tardi, mi raccomando sul sito Nicola Porro con quella bellissima intervista, lui con questo grande, stupendo cappotto che tra poco vedrete sul sito Nicola Porro.it, ciao!